Ciao a tutti, oggi vediamo questi supportini ovali in plastica trasparente molto luminosa adatti a minerali fossili o anche bottiglie di vino. Sono molto leggeri, trasparenti, ecco qui vediamo come si può appoggiare una bottiglia di vino. Sono molto solidi, questa base ovale mantiene una stabilità anche per oggetti piuttosto pesanti. La bottiglia resta perfettamente posizionata e potrebbe essere adatta alla vetrina di un negozio piuttosto che a una collezione. Vediamo ora invece un minerale voluminoso e pesante, viene posizionato e resta completamente stabile, fermo. Vediamo la parte retro, mentre davanti quasi non si vede il supporto, non disturba minimamente ma si vede solo un pochettino della base trasparente ovale, è anche molto carino quando si espone. Come dimensioni questo oggetto ha una base di 10 x 6 cm, mentre la distanza tra i perni è di 5 cm. Ora vediamo come si monta, è molto semplice, c'è un dentino che viene inserito all'interno di questo taglio, spinto in avanti e siamo già sistemati. È anche smontabile nel caso poi si voglia portare presso una fiera, un museo o in una vetrina. Questi supporti insieme ad altri simili li potrete trovare sul sito elettronicadidattica.com e abbiamo anche un'offerta per più pezzi, quindi forniture per più pezzi. Rivediamo di nuovo il minerale. Ecco qui vediamo una certa quantità di pezzi, possono essere 10 o 30. Io vi aspetto per i prossimi video, se volete dare un'occhiata al nostro sito elettronicadidattica.com troverete tanti articoli per oggetti da collezionare come minerali, fossili, bottiglie di vino, targhe. Vi aspetto per i prossimi video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, a presto!